Allora, fuori aria, siamo qui con il mister Fubi Mario. Mister, prestazione di livello contro la seconda in classifica, diciamo, differenza di punti non si è vista per niente in campo oggi. Sì, non avevamo bisogno perché venivamo da una brutta prestazione, seppur con una buona squadra, però non riconoscevo la mia squadra. Avevo chiesto di tirar fuori qualcosa in più perché sappiamo contro il mio progetto, che cosa abbiamo concesso, però penso che la parte del cinismo deve essere più loro che il nostro. Noi abbiamo creato le due occasioni, è un peccato, però ci fa ben sperare, nel senso sappiamo che la squadra potrà fuori queste prestazioni. Ora, il messaggio che mando i miei è che da qui alla fine dell'anno vanno tre partite e queste sono le prestazioni, non si può fare un passo indietro. Sì, infatti è anche peccato perché vista la sconfitta del Giardinetti si poteva rubare qualche punto in più. Sì, sì, va bene, ma noi con gli altri arrivati a questo punto non li guardiamo, noi pensiamo noi stessi, lavoriamo per il prossimo anno, oggi abbiamo giocato con tutti i 26 titolari e credo che sia importante per una società come il Tarno. Faccio complimenti comunque ai miei ragazzi perché in settimana hanno dimostrato che avevano ancora tanto da poter dare a questo campionato. Ve li ringrazio per la nuova potenza. Grazie mister. Grazie a voi.